Scampia 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 con l'indignazione e sapere che oggi io sto portando la loro voce, sono un loro altoparlante, un loro megafono e oggi se noi arriviamo da qui a qualche settimana ad abbattere la prima vela, credo che quei cittadini sono i principali protagonisti. Tre vele su quattro che vengono abbattute, cronoprogramma rispettato, l'altro giorno abbiamo finito l'ultimo atto, il progetto esecutivo va in gara, nessun abitante rimane per strada, questa è stata la cosa più difficile perché per poter abbattere a nessuno sfugge bisogna allocare le persone in altri luoghi, un'unica vela rimane in piedi perché curiosità che le vele sono periferia perché Scampi è periferia ma Scampi è il centro della città metropolitana di Napoli e nella vela che rimarrà noi metteremo tutti gli uffici pubblici, gli uffici pubblici più importanti a dimostrazione che la periferia è il centro e da questo punto di vista credo che è un messaggio molto forte per la nostra città, una città chiaramente difficile dove le persone in questo modo si trovano non più ai margini della società ma protagonisti del loro cambiamento. Credo che questo è un messaggio forte, quello di cercare di unire i luoghi delle nostre città così come anche una modalità per dimostrare che i sindaci cercano ogni giorno di ridurre le distanze tra i rappresentanti e i rappresentati Presidente noi stiamo per strada, io faccio una media di 7-8 km al giorno e una città come Napoli è complicata noi ci prendiamo responsabilità anche quando non ne abbiamo ma ci fa piacere perché non ci potremmo sottrarre e lo facciamo anche senza mezzi e senza risorse. In quest'Aula mi piacerebbe pensare che tutti i sindaci qua abbiamo idee completamente diverse magari gli uni dagli altri ma siamo molto uniti, siamo molto coesi forse proprio perché siamo differenti e possiamo rappresentare veramente la coesione democratica del nostro Paese e anche il rilancio della nostra Repubblica. Lo si può fare anche senza soldi perché noi abbiamo dimostrato tra mille problemi, difetti ovviamente ed errori che il capitale umano vale più del capitale economico e quando c'è dignità, passione e umanità puoi andare molto lontano. Grazie Presidente. Smart City, Green Economy, mobilità con auto e bus elettrici per migliorare la vivibilità dei grandi centri e Napoli ora come ha ribadito De Magistris diventa città guida per la trasformazione urbana delle periferie ma per avere una prospettiva, ha avvertito il sindaco di Napoli, serve l'aiuto di governo e Parlamento. Sullo futuro dei municipi la Presidente della Camera Boldrini è stata chiara l'Italia deve fare sistema per uscire definitivamente dalla crisi voi, addetto ai sindaci, siete la voce dei cittadini. È però soprattutto dalla manovra finanziaria che i comuni si aspettano atti concreti dal governo. In questo senso il Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia, ha fornito una larga apertura assicurando l'impegno del governo. La città del futuro, le città del futuro, a cui è intitolata questa nostra giornata di lavoro impongono al Parlamento di rispondere alle vostre sfide citando tre passaggi che sono lo snodo fondamentale rispetto alle risposte che abbiamo il dovere di darvi nel dibattito che in questo momento è al Senato sulla legge di bilancio e nei prossimi giorni sarà qui alla Camera. Io li racchiudo provando a rispondere a quasi tutti i sindaci e le sindache che sono intervenuti in tre interventi, tutti da completare, ma che sono già partiti. Intanto il BES, l'indicatore di benessere ecosostenibile, questo Parlamento, questa legislatura ha fortemente voluto, come allegato al DEF, non per fare dibattiti, non per fare convegni, ma per vincolare le politiche pubbliche, che gli indicatori di benessere ecosostenibile fossero gli indicatori che avrebbero accompagnato il documento di economia e di finanza e le politiche pubbliche da quest'anno e in futuro, per consentire la misurazione delle politiche pubbliche. Non basterà più, lo dico alla sindaca Casa, lo dico alla sindaca Barnini di Empoli, non basterà più salvarsi la coscienza dicendo abbiamo messo un miliardo per l'ambiente, ma bisognerà dimostrare che il livello di CO2 nell'aria, in città, in regione e nel Paese sia esattamente quello per il quale tutti insieme qui ci siamo vincolati nel documento di economia e finanza. Per la prima volta nella storia del nostro Paese, certamente tra le prime volte in Europa, noi abbiamo fissato un livello di CO2 nell'aria che non deve superare le 7,4 tonnellate per persona. Quello è un vincolo che il governo è tenuto a rispettare, che la politica è tenuta a rispettare e se ogni anno, il 15 febbraio, perché questo è il vincolo che si è dato al Parlamento, quando in questo Parlamento ci sarà una discussione sul livello di CO2 nell'aria, sul contrasto alla povertà, sulle diseguaglianze, sul livello di alfabetizzazione, sul consumo del suolo, sul consumo del suolo. Lei ha avuto un coraggio che probabilmente altri pezzi dello Stato non hanno avuto, ma quel coraggio non sarà fine a se stesso, perché è figlio già di una visione connessa alle modalità con cui un Paese cresce. Ha ragione il Sindaco De Magistris quando dice che il capitale umano vale più del capitale economico. Ed è la sfida che abbiamo tutti noi qui davanti. Quando parliamo di digitali e di economia circolare, economia circolare, lo dico riprendendo l'intervento del Sindaco Giorgino, significa non buttare i rifiuti sottoterra, ma significa dividerli, insegnarlo ai nostri figli. Poi diventa anche più facile finanziare modelli di smaltimento dei rifiuti che non portano i rifiuti sotto i nostri piedi, perché quando i rifiuti finiscono sotto i nostri piedi in realtà stanno facendo male quello che è già stato fatto in passato. Economia circolare significa questo, economia digitale significa la dematerializzazione della ricchezza, significa raccogliere la sfida della Sindaca Raggi e trasformarla in una sfida collettiva. Ma per far sì che questa sfida sia collettiva dobbiamo anche avere il coraggio di parlare di doveri. Nel 1989 cadeva anche il muro di Berlino e il ritardo della Germania Est rispetto alla nostra cara Calabria, la cito perché è la regione con il ritardo di sviluppo più ampio, era almeno di 10 punti. Sono passati 28 anni, non ricordo a tutti voi quanto è cresciuta la ex Germania dell'Est e la condizione in cui siamo noi. Se ci sono ancora questi ritardi evidentemente la responsabilità è solo e solo nostra e abbiamo il dovere alla fine di questo ciclo di programmazione di tirare una riga sotto, di limitare gli interventi e di responsabilizzare maggiormente le autonomie locali e le regioni. Grazie.